Buona serata cari amici con l'assistenza alla regia del mio caro omonimo amico Nicolino Allora, veniamo ai risultati del turno di martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2020 della Coppa Italia Serie A, Serie B e Serie C Coca-Cola Allora, Pordenone-Monza 4-1 per il Monza e Rigori, Bologna-Reggina 2-0, Entella-Pisa 3-1 Sampdoria-Salernitano 1-0, Torino-Lesce 3-1, Cagliari-Cremonese 1-0, Cittadella-Spezia 0-2 Cosenza-Monopoli 2-1, Benevento-Empoli 4-2 per l'Empoli Brescia-Perugia 3-0, Fiorentina-Padua 2-1, Verona-Venezia 3-1 e Rigori per il Verona dopo una gara di 120 minuti con presi supplementari spettacolare Genoa-Catanzaro 2-1, Crotone-Espala anche qui gara interessante Vittoria per la squadra ferrarese per 4-3, Parma-Pescale 3-1, Udinese-Vicenza 3-1 Il prossimo turno che sarà l'ultimo prima dell'ingresso delle otto grandi squadre a fine novembre Torino-Entalla-Spal-Monza-Sampdoria-Genoa-Spezia-Bologna-Cagliari-Verona-Palma-Cosenza-Empoli-Brescia-Udinese-Fiorentina Quindi per questo video è tutto Ringrazio nuovamente il mio caro amico Nicolino per i risultati del prossimo turno Buon proseguimento, buona serata a tutte Viva le squadre italiane in Champions Ciao